Antonio Megalizzi, 29 anni, nato a Trento da genitori meridionali immigrati al nord, assassinato da un terrorista nei mercatini di Natale di Strasburgo lo scorso dicembre. Antonio era un giovane giornalista, frequentava la facoltà di studi internazionali dell'Università di Trento e collaborava con Eurofonica, un programma che trasmetteva per le radio universitarie da Strasburgo le dirette dei lavori del Parlamento europeo. Antonio l'ha sottoscritto, inseguo le mie passioni, il giornalismo e l'Europa. Diceva, mai come oggi un'Europa unita è cruciale e mai come oggi siamo ad un passo dal distruggerla. Ancora, vorrei che i giovani come me lo capissero e aggiungeva, sono innamorato dell'Europa. Ecco, Antonio aveva capito che bisognava lavorare per far conoscere questa Europa che per molti è lontana, è un oggetto misterioso. Non si può voler infatti bene o amare qualcuno o qualcosa che non si conosce. Ecco, Antonio Megalisti è un martire dell'Europa, un giornalista e un comunicatore che si è speso per far conoscere la bellezza del progetto europeo.